Domenica 29 settembre, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Subito i quotidiani locali e nazionali. Iniziamo come sempre da primo piano Molise che apre con la vicenda GAM. Toma alla prova del 9. C'è grande attesa per il tavolo di domani al Mise. I sindacati però chiedono alla Regione atti concreti e non più chiacchiere la CISL. Il governatore dovrà venire alla riunione con i compiti fatti, spiegare quali misure sono attivabili per le maestranze. Ci sarà pure Amadori. L'azienda non ristrutturerà il macello. Unica pezza d'appoggio per la proroga della CIGS è l'impegno del gruppo su incubatoio e allevamenti. Dunque staremo a vedere cosa accadrà domani dall'incontro romano. Il punto di Rita Iacobucci sull'evasione. Molise in vetta, ma il primato a tanti. Perché? In taglio centrale c'è la protesta a Isernia, veneziale smantellato. Anche il comune si ribella e chiude il palazzo. La viabilità a Venafro, bretella di ceppagna cancellata, sorbo in calza toma, batta i pugni con l'ANAS. A Isernia diffama la polizia su Facebook, ma una volta scoperto si pente. Poi c'è questa notizia che riguarda Campobasso, notizia sconcertante. Minaccia di sfregiare la ex con l'acido. È stato arrestato un trentasenne del posto. Contribuenti sul piede di guerra. Bollo già prescritto. La Regione ci riprova e batte cassa. Notificati preavvisi di fermo amministrativo e richieste di pagamento. Appoggio Sannita. Due auto in fiamme. Nella notte fermato un uomo. Infine i richiami di sport con i lupi a Pineto, mentre l'Agnonese gioca in casa con il Giulianova. Basso Girardi fuori a Tolentino. L'eccellenza. Cinquina del Venafro. Treppini comanda. Campo di Pietrocchèi. Rabbia a Termoli. Per la pallacanestro la Magnolia fa subito la voce grossa contro San Giovanni Valdarno. Il quotidiano del Molise. L'apertura. Il danno al quotidiano con la legge di Toma. Come richiesto dal governatore della Regione, illustriamo nel dettaglio il torto che abbiamo subito con la modifica di legge retroattiva approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Intanto il consigliere Michele Iorio spieghi ai molisani dove vuole stare. I cittadini meritano chiarezza. C'è il messaggio ai lettori. Poi in taglio centrale l'amore malato. Mi lasci e io ti sfiguro con l'acido. Un rapporto ossessivo si trasforma in incubo per una ragazza di 20 anni. Un trentasenne di Campobasso arrestato a Milano. Stava fuggendo in Sud America. E poi trasporto urbano. A Termoli dal 1 ottobre la tessera di esenzione per i disabili non sarà più valida. Ed ancora a Campobasso suicidi fra gli appartenenti alle forze dell'ordine. Il sindacato COISP studia il fenomeno. Ed ancora dentro la notizia a spostare la stazione c'è chi dice no a Termoli. A Termoli a Isernia le insidie del web di fama. La polizia su internet poi si pente e fa marcia indietro. Infine lo sport, la serie D, i lupi all'assalto del Pineto. Agnone col Giulianova. Il vasto Girardi va a Tolentino. I quotidiani nazionali iniziamo come sempre dal Corriere della Sera. Cambia l'IVA, sconti e rincari. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. L'ipotesi aliquota più alta per chi paga in contanti e tagli per invece chi paga con carte di credito e bancomat. Conte, allarme d'azzi per il Made in Italy. Le tariffe USA pronte a colpire agricoltura e aerospazio europei. Poi c'è a proposito dell'IVA una vignetta, come sempre esilarante, di Giannelli, frutto proibito, con Conte che chiede alla sua Eva. Ma sei Eva o IVA? Gli approfondimenti sulla politica e il fattore Renzi che agita le truppe di Forza Italia, le spine dei partiti. E poi le turbolenze all'interno del Movimento 5 Stelle, gli espulsi e i fuoriusciti. Il movimento è fragile. In taglio centrale c'è Emma Marrone che rassicura i suoi fan. È stata dura ma è andata, ha lasciato l'ospedale. Poi c'è questa notizia, l'ennesima tragedia. Sulle strade, schianto dopo la discoteca, morti tre colleghi ventenni, ferito il guidatore. Risultato positivo al test sull'alcol. La Repubblica, diritti subito, le leggi, le sfide civili per la maggioranza. Eccola qui, l'apertura, intervista a Pisapia. Decreti sicurezza e cittadinanza ai nuovi italiani. 5 Stelle e 5 Stelle rompano con il passato. Fine vita, immigrazione, tutela dell'ambiente. Ecco tutti i nodi da chiarire nel governo giallorosso. Casaleggio, Movimento 5 Stelle. Il conflitto di interessi arriva fino all'ONU. È una vicenda di cui si sta discutendo parecchio. C'è l'emergenza clima. Il decreto che non c'è, c'è l'editoriale di Eugenio Scalfari, del fondatore di Repubblica, i giovani e l'universo, i adulti e la politica. E poi, in taglio centrale, il simbolo del dramma immigrazione. Ricorderete questo scatto, questa foto che ha fatto alcuni anni fa il Giro del Mondo. Il papà di Alan. Penso a lui e vivo per gli altri bambini. Eccola qui la foto che ritrae Abdullah Kurdi con i bimbi in un campo a profughi sotto il figlio Alan morto nel 2015 sulla spiaggia di Bodrum. Andiamo ora su Il Messaggero, il quotidiano romano. Aumenti parziali dell'IVA per tagli al costo del lavoro per ridurre il cuneo. Ipotesi aliquota del 10% all'11-12. Sconti per la tracciabilità. Marenzi minaccia il veto. Nel DEF disavanzo del 2,1%. Dazzi usa allarme di Conte. C'è poi l'intervista alla Boschi. Altri dem e forzisti con noi. C'è un approfondimento su Roma. Come avrete capito, avrete già visto tante volte. Il Messaggero si occupa quotidianamente delle vicende della capitale. Vigili con i droni a caccia di buche. Ma rattoppi al palo. Il Campidoglio li useremo anche per monitorare i monumenti. Niente multe. In taglio centrale c'è questa bellissima foto con la vittoria di Coleman. 9,76 nei 100 metri. Filippo Tortu, eccolo qui, è settimo. C'era una volta Bolt. Coleman, re, Tortu, principi azzurro, dei cento. A Doha, mondiale al controverso americano. Filippo VII, 32 anni dopo Pavoni. Il giornale di Milano parla Berlusconi. Propone una intervista a Silvio. Senza Forza Italia la destra è estremista. Questo è il titolo di apertura. Il Cavaliere Lega e fascisti senza noi non sanno governare. Casaleggio, all'ONU, bufera sul conflitto di interessi. Alimenti nel mirino, mazzata usa sul parmigiano. Abbiamo già visto la notizia anche su altri quotidiani. Non parlavano in particolare di parmigiano, ma di altri prodotti. Coi dazzi trema l'export italiano. E poi l'editoriale di spalla del direttore Alessandro Sallusti. La truffa dietro la guerra al contante. Quando c'è da spennare i cittadini, lo Stato è maestro nel trovare sempre un nobile motivo dietro il quale nascondere il furto che a volte è in proprio altre per conto terzi. Questo l'incipit del pezzo del direttore Sallusti. In taglio centrale ci sono due foto notizie. Battisti si può ascoltare online. Il suo canto è davvero libero. Un 29 settembre speciale. E poi l'altra foto notizia in taglio centrale. L'abbiamo già vista anche sul messaggero. Atletica, il miracolo di Tortu e la strage dei maratoneti. Si parla ovviamente dei mondiali di Doha e della prestazione nei 100. Il sole 24 ore, il quotidiano economico, finanziario e normativo di Confindustria. Manovra, debito in calo dall'IVA fino a 5 miliardi. Il nuovo DEF dote da antievasione e aliquote rimodulate. Deficit obiettivo 2,2%. Taglio del cuneo da 2,5 miliardi. Conte sul piano green. Incentivi, non penalizzazioni. E poi Ignazio Visco, Banca d'Italia. Rischio d'inflazione necessaria. Più liquidità in BCE. Serve trasparenza. E questa notizia del mercato immobiliare di New York. La troviamo in taglio centrale. Il 25% delle case di lusso resta invenduto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Con La Rosa. Conte fa 6 su 6. Ma ora c'è CR7. Inter Juve alla prova del 7. Ecco qui il titolo di apertura. Di spalla l'Atalanta che show sempre più DEA. Quattro gol in un tempo. Sassuolo travolto. E poi c'è Gian Burrasca. Gian Paolo. La Fiorentina al Meazza. Le 20.45. Gian Paolo contro la Viola. Ne usciremo col bel gioco. Bene, davvero tutto. Prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto di oggi. Cosa troverete sulla nostra rete? Lo vediamo insieme. Alle 11.00 viva la musica con Gigione. Alle 11.50 Salus TV. Alle 12.00 Punto Verde. Alle 14.00 l'informazione. Troverete proprio me. Alle 16.00 Conto alla Rovescia. Una delle puntate andate in onda nella scorsa stagione. In attesa dell'inizio delle nuove puntate. La prima in programma il 4 di ottobre. e poi Molise Sport. 19.30 TG News. 21.00 Punto Verde con il professore Aldo Barletta. Alle 23.00 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona giornata. Arrivederci. Grazie per averci scelto.